Ciao a tutti e benvenuti al canale della Casa Cultural Italia. Io sono Gioele, professore di lingua e cultura italiana. Nel video di oggi impariamo la cosa più elementare di ogni lingua, ossia il suo alfabeto. Impariamo a pronunciare bene le lettere dell'alfabeto italiano. L'alfabeto italiano è composto da 21 lettere e è possibile trovare anche cinque lettere che usiamo soltanto in parole stranieri. Però oggi non impariamo soltanto la pronuncia delle lettere, impariamo anche una parola e una piccola frase. Siete pronti? Cominciamo! Prima lettera. A di acqua. L'acqua è trasparente. B. B di bicicletta. La bicicletta è piccola. C. C di cipola. La cipola non è dolce. D. D di di deodorante. Il deodorante è profumato. E. E di elastico. Questo elastico è e sporco. F. F di foglio. Questo è un foglio di carta. G. G di gata. Questa gata si chiama malica. Malica. Malica? H. H di hotel. Hotel Roma, buongiorno. I. I di Italia. L'Italia è bella. L. 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 M. L. 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 L questo è il numero uno. O di occhiali. Questi sono occhiali da sole. P di pena. Questa pena è verde. Q di quaderno. Questo quaderno è giallo. R di righello. Questo righello è flessibili. S di scarpa. Queste scarpa puzza. T di tazza. Mi piace una tazza di caffè. U di uovo. Questo uovo è fresco. V o vu. V o vu di vaso. Questo non è un vero vaso. Z. Z di zaino. Questo zaino è nero. E quali sono le lettere stranieri? La prima. Il lungo. Il lungo di jeans. Il jeans non mi piace molto. K. K di K. La K è un'azienda italiana. W. W di whisky. Quello whisky non è buono. X. X di kissinofobia. La kissinofobia è una cosa brutta. Y o y. Y o y. Y o y di yogurt. Mi piace lo yogurt alla frutta. Nell'esempio che ho fatto ho sempre detto di. A di acqua. Se per caso avete già ascoltato in altri video a come acqua, non aver paura significa la stessa cosa. Ho scelto di perché a me sembra essere più facile per voi capire cosa intendo dire. Bene, per oggi è questo e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci!